ciao benvenuti cari amici di penelope oggi andiamo a conoscere un pochino più da vicino l'ultimo mazzo nato in casa penelope i miei oracoli volume 2 ora chi mi segue già li ha visti li sto usando da qualche giorno da un paio di settimane a dire a dire il vero li sto usando nei miei video li sto usando anche perché tiro una carta la carta del giorno ogni giorno mi leggerai in community se vai sul canale youtube sulla community ogni giorno pubblico la carta del giorno e per il momento almeno sto usando queste carte proprio per farvele vedere per farvele conoscere o se no anche sul mio profilo instagram la pubblico anche lì dicevamo ecco questo è l'ultimo mazzo nato oracoli volume 2 per chi mi segue già lo sa c'è un volume 1 che è nato prima è anche abbastanza nuovo sono pochi mesi è nato prima di questo eccolo la oracoli volume 1 perché ve lo mostro sì perché è straordinario è il mio orgoglio volume 1 e volume 2 allora dicevamo queste carte sono un mazzo di 78 carte 78 carte stampate su un cartoncino di 400 grammi che è un cartoncino molto spesso molto cioè è qualità normalmente 250 300 le i mazzi di carte invece questo è su un 400 quindi un cartoncino lo capirete molto più resistente va bene non voglio dire indistruttibile perché comunque carta però insomma se uno ha un minimo di cura per le sue carte queste ti durano comunque un 400 grammi e come misura li ho voluti fare esattamente uguali agli altri oracoli ma anche agli altri miei mazzi di carte poi te li farò vedere ai messaggi lui e lei ai tarocchi alle parole d'amore va bene le misure sono identiche al millimetro perché questo perché niente vieta che tu possa prenderli entrambi e mescolarli farne un unico mazzo il volume 1 e il volume 2 ok metterli insieme quindi qui le carte sono esattamente perfette esattamente stesso cartoncino stessa misura stesso tutto proprio perché io nel privato quando faccio i video ovviamente no perché vi devo far conoscere i miei mazzi ok ma io nel privato molto spesso li mischio ne creo creo un unico mazzo insieme e lì parlano parlano è una meraviglia va bene allora andiamo a vederle un pochino più da vicino anche se non mi metto a mostrarvele tutte ne tirerò qualcuna lasciamo un pochino il brivido e poi come ho detto chi mi segue già le vede quotidianamente nei miei video nella carta del giorno che pubblico sulla community di youtube ma anche sul mio profilo instagram che ti lascio qui se mi vuoi seguire comunque sono comunque penelope e le sue carte anche su instagram comunque quindi è tutto quanto qui vuole essere darvi un attimino un infarinatore andiamo un pochino a vedere queste carte come sono dicevamo 78 carte sul cartoncino le misure sono uguale a tutti gli altri mazzi andiamo a vedere facciamo una cosa mescoliamo e ne vediamo alcune va bene guarda eccola là procedi con cautela passo dopo passo qui fanno vedere l'omino con il lanternino che cammina nel buio no a solo questa piccola luce sono molto intuitive diciamo per esempio questo può essere un buon inizio per chi di voi non conosce i tarocchi o è un principiante anche per chi le legge come me è un qualcosa in più naturalmente no che le carte ti danno che ti spiegano una conferma in più quindi benissimo se già leggi i tarocchi ancora meglio le leggi a occhi chiusi queste ma voglio dire per tutti coloro che amano le carte o che vorrebbero iniziare ma ancora con i tarocchi insomma questo è un modo perfetto per iniziare perché già hai una frase quindi già la carta da sola ti porta e poi mi chiedono ma penello per le spiegazioni non ce n'è di spiegazioni con le carte qui devi andare a sentimento tuo non parlo di tarocchi per quello ci sono questi oracoli che possono aiutare in questo passaggio devi seguire un po il tuo intuito quindi a cosa ti fa pensare questa immagine io qui te lo dico procedi con cautela passo dopo passo e qui tu capisci anche perché c'è un omino un signore che cammina al buio c'è un lanternino c'è il percorso di pollicino quindi deve stare attento a dove mette i piedi sta camminando nel buio e quindi in qualcosa che lui non conosce non vede non sa e via andare ok e da lì fare tutti i tuoi giri diciamo così mentali nessuno ti rincorre voglio dire il bello degli oracoli è quello i tarocchi li devi conoscere quello è punto fine con gli oracoli insomma poi puoi iniziare quindi questo è un mazzo pensato proprio anche non solo anche per i principianti o coloro che non conoscono i tarocchi va bene per chi usa anche tarocchi come dicevo è una conferma in più vediamone un'altra qualcosa da festeggiare questa l'abbiamo già vista anche nelle previsioni del 2022 una atta meravigliosa wow i palloncini quindi si pensa alla festa un qualcosa da festeggiare quindi una vittoria quindi una gioia un qualcosa di bello che capita nella nostra nella nostra vita ok guarda devi decidere qui si arriva un bivio c'è un bivio di un qualsiasi tipo quindi un qualcuno o magari proprio noi o un qualcuno deve prendere una decisione fare una scelta o si va di qua o si va di là quindi prima dovrà soppesare magari no una situazione per arrivare poi a decidere di che morte morire passatemi il termine ci sarà una perdita qui c'è una donna contratta dal dolore qui c'è un dolore immane quindi qui abbiamo perso stiamo perdendo qualcuno o qualcosa ci sta facendo vedere la carta il nero no della carta proprio la disperazione sì la disperazione il lutto se vuoi quando uno perde qualcosa è ovvio piangono è disperato beh beata solitudine in assoluto relax anche questa carta l'abbiamo vista in diversi miei video quindi qui tutto ci fa vedere innanzitutto la solitudine però una solitudine ricercata cioè qui è beata solitudine qui ci godiamo la vita per conto nostro quindi il nostro piacere il nostro benessere personale non quello di coppia o l'andare a cercare chissà cosa questa è la carta che ci dice ciò che soddisfa noi personalmente noi a prescindere dalle altre persone quindi una carta bella bella bellissimissima beh messaggi in arrivo qui c'è un cellulare mi sembra evidente qui ci arriva un messaggio una comunicazione poi può essere anche una telefonata e per l'amor di dio voglio dire sul cellulare riceviamo anche quello anche un messaggio vocale è comunque un messaggio una comunicazione che arriva ok ti allontanerai da una situazione anche questa carta l'abbiamo l'abbiamo vista qui di qui c'è un dare le spalle a qualcuno o a qualcosa da una situazione appunto no come dice come dice la carta quindi qui addios ce ne andiamo per altri lidi un'altra carta anche questa l'abbiamo vista insieme amore è guardare insieme nella stessa direzione qui fanno vedere una coppia che si abbraccia ma non è come posso dire qui c'è qui una coppia consolidata qui fanno vedere guardano dalla finestra quindi cioè si pensa che stiano in una stessa nella stessa casa no quindi magari una convivenza una coppia già rodata non fanno vedere il bacio l'incontro di passione il fuego degli inizi qui già costruiamo qualcosa insieme guardiamo nella stessa direzione vogliamo le stesse cose e magari viviamo proprio insieme siamo una famiglia ok adesso a breve qui fanno vedere la clessidra che esplode nel senso che è arrivato il momento adesso quindi qui ci fanno vedere che quello che noi vedremo dalle carte è un qualcosa che avverrà proprio nel giro di poco pochissimo ok adesso a breve quindi una carta tempo si può dire va bene ovviamente come stavo dicendo prima il vostro intuito vi dirà che se questo questo disgraziato che si deve muovere nel buio un lanternino passo passo è ovvio che un qualsiasi cosa che lui mi voglia portare arriverà con il tempo proprio perché qui lo dico piano piano quindi ovvio che la situazione non so se mi sto spiegando ecco perché vi dico questi oracoli sono la manna dal cielo per i principianti per coloro che non conoscono i tarocchi eccetera per invece le persone che già conoscono i tarocchi a menadito questo è un aiuto in più cioè un mazzo meraviglioso guardate io lo uso sempre sia questo che come vi stavo dicendo il numero uno allora un viaggio lontano qui c'è il mappamondo mappamondo innanzitutto che mi parla di completezza penso al giro del mondo in 80 giorni no un qualcosa che viene completato ok è anche proprio il lontano quindi il viaggio uno spostamento una situazione anche se vuoi che si muove noi potremmo recarci da qualche parte un qualcuno che è lontano e bla 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 vediamo guarda non vedo non sento non parlo come vedi qui ho scelto questa immagine perché insomma voglio dire è meravigliosa però una carta di fermo non vedo gli occhi chiusi non sento cioè le orecchie qui nascoste dal cappello e non parlo bocca chiusa qui dormo sono fermo me ne frega nulla non vedo nulla non sentono non faccio nulla quindi ti esce questa carta è ovvio che qui la situazione è bloccata e ferma non va ne avanti e ne indietro perché non si parla non si fa nulla non si cambia nulla va bene il destino smuoverà le situazioni per te e c'è quello che è un quadrifoglio la fortuna quindi la fortuna il destino inteso come fortuna cioè la casualità un qualcosa che va da sé non dobbiamo spingere noi non dobbiamo agire noi ma è un qualcosa che arriva arriva da sé sarà fatta chiarezza e qui c'è questa bambina vedete che vede che incontra il sole quindi il sole innanzitutto una carta che riscaldano il calore eccetera eccetera ma anche appunto la luce del sole che viene a schiarire per esempio un sole che ti arriva su questo buio tu mi capisci qui viene fatta viene fatta chiarezza quindi un qualcosa che si viene a sapere e bla 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 riceverai un dono ma qui c'è un regalo un regalo che arriva di qualsiasi tipo naturalmente insomma qui carte ragazze non è che ve le posso far vedere tutte come vi ho detto vediamo comunicazione in arrivo quindi viene arrivo una telefonata un messaggio qui c'è più vedi il cellulare qui siamo un pochino più all'antica però il senso è molto quello qui è più probabile che sia proprio una telefonata qui è più probabile un messaggio scritto ho voluto un pochino diversificare però se uno aspetta la comunicazione di qualcuno e sia per telefono che sia su whatsapp poi gliene frega l'importante è che si faccia sentire che dice o qui vedi vedo questa sorry we are closed non c'è apertura quindi qui c'è una chiusura ad un rapporto ad una situazione appunto che non viene aperta o la non si vuol aprire oserei dire io qualcuno cercherà di convincerti si vede proprio il parlare no visto quando uno gesticola che parla parla quindi la comunicazione il parlare quindi è di nuovo una comunicazione come le altre carte però qui c'è anche un intento di volerti convincere no cioè la persona vuol convincere un'altra delle proprie idee ecco un po anche questa insistenza diciamo una grande gioia porta benessere e soddisfazione quindi qui c'è una novità c'è un qualcosa che arriva e ci porta assolutamente una grande soddisfazione questa è una carta felicissima una delle più felici del mazzo insieme a questa naturalmente va bene quindi qui c'è un qualcosa che si riaccende un qualcosa che ci porta proprio il benessere ci fa stare bene il benessere proprio in quel senso ma anche il benessere economico benessere benessere tutti i sensi fatti valere questa un'immagine io mi ci sono innamorata di questa donna bella io la vedo bella grintosa che ti guarda dritta negli occhi poi anche proprio bella una bellissima donna una bellissima ragazza ma l'atteggiamento è quello che piace a me da leona da leonissa proprio non so se mi spiego ok che ti guarda dritto negli occhi sembra quasi sfidati si fuma la sigaretta tipo james dean non so se vi ricordate ecco quell'atteggiamento vedi ora qui non si vede tutta però al braccio sul ginocchio poggiato come a sfida come dire fatti sotto io non mi sposto da qui quindi la sicurezza in sé bellissima bellissima immagine qualcosa di nuovo si manifesterà ho scelto questa immagine perché fanno vedere questi fiori proprio che sbocciano da dove proprio non te l'aspetteresti proprio quindi qui c'è proprio un qualcosa che arriva no lo dice la carta che sboccia quindi una novità un qualcosa di nuovo anima gemella credo sia da spiegare vedi sti due sbambra barbiano insieme voglio dire io quindi parla da sé alleanza e comunanza di interessi qui fanno vedere due due amiche quindi si pensa a due persone che vanno d'accordo che hanno gli stessi intenti gli stessi interessi che se la dicono e se la intendano appunto comunanza di interessi proprio in quel senso lì ok nel senso che proprio si come si dice mi viene la parola oddio ma 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 sì che hanno le stesse idee che sono legati o legati da idee comuni va bene o simili l'andare d'accordo con qualcuno qui fanno vedere la luna guarda come bella vedi e questa luce questa mezz'ombra come ti posso dire vedi questa luce un pochino così della luna e infatti qui dice l'apparenza inganna non tutto è come sembra perché nella notte avete visto quando c'è una notte di luna piena c'è luce c'è quel barlumino di luce e ci richiama questo del buio però non vedi tutto completamente vedi le cose un po distorte non si vede bene come alla luce del sole ovviamente no attrazione puramente fisica qui fanno vedere proprio ok fanno intravedere a l'abbraccio di una donna verso un uomo quindi attrazione puramente fisica quando esce questa carta quindi c'è attrazione fra le due persone attenzione alla falsità e fanno vedere la maschera quindi quando esce questa carta insomma bisogna stare un po in inattentini naturalmente non c'è mai da fare queste favole segui il tuo cuore qui c'è questo e se ne fotte chiappa la ragazza se la sbaciucchia davanti a tutti se ne frega proprio quindi diciamo la spensieratezza cioè il non calcolo boom ho voglia di baciarla la bacio quindi non mi riferisco ovviamente soltanto al bacio però segui il tuo cuore segui il tuo istinto quello che ti detta il cuore fai quindi buttati nelle cose questo un po che mi dice questa carta comunque diamo più veloce se no ci vuoi tre giorni la volevo fare più veloce il passato ancora presente nei ricordi ci sono le fotografie no che ci fanno pensare ai ricordi il terzo incomodo l'abbiamo visto nel mio video che è la persona il pappagallino che guarda questa coppia del lì che sembrerebbe volersi insinuare in questa coppia per andare a rompere no o viceversa posso vederla dal loro punto di vista c'è questo piccinino solo che viene lasciato lì solo da una parte il loro che si godono il loro amore quindi sia l'intruso che si vuole intromettere ma anche l'escluso da questa coppia da questa affettività quindi insomma un lettera d'amore quindi qui c'è un timbro proprio affettivo lei la lei troppo del del mazzo e c'è ovviamente il lui che adesso vi vado vi vado a cercare così intanto vedete un po anche le altre carte perché tutto un po le fogo edemici vorranno vi ci vorrebbero quattro giorni dove lui no queste fantastiche avevo qualcuno e pentite vuol chiedere scusa ma è questa immagine mi fa impazzire l'abbiamo già vista allora vediamo lui anche questa l'abbiamo già vista ci sarà un nuovo inizio qui ovviamente essendoci tutti i cuoricini in special modo in amore però qui si parla di inizio in tutti i sensi ovviamente anche lei l'abbiamo vista una donna meravigliosa la bellezza e l'intelligenza creatrice c'è un fermo vediamo pace armonia saranno ristabilite quindi qui se avete litigato con questa carta ovviamente facciamo pace rifletti e valuta bene ripeto in tutti i miei video le vediamo tutte queste carte andiamo a vedere dov'è lui questa l'abbiamo vista la situazione non cambia quindi c'è un qualcosa e un vanne avante ne indietro ci saranno discussioni quindi quando esce sta carta sicuramente litigheremo avremo a che ridire ci saranno critiche accuse di un qualche tipo uscite e divertimenti in compagnia anche questa l'abbiamo vista nei miei video qualcuno ti corteggerà bellissima anche quella qualcosa di insolito l'abbiamo vista ma ne abbiamo viste moltissime quasi tutte c'è un forte feeling dentro di te già lo sai e vi andare vediamo se trovo lui poi le altre le vedrete nei miei video saprete voglia di seguirmi ma l'abbiamo vista eccola la questo è in lui e dove la lei lo riflessa lei oddio dove lei eccola la guarda come questa coppia qui c'è lui e lei va bene lui e lei quindi puoi giocare dicendo il personaggio di che vuoi se vuoi analizzare una coppia lei e lei le batteggi si dice no c'è dice lei è e lui è tizio e gli altri personaggi che usciranno saranno persone che girano che ruotano intorno a queste due a queste due persone naturalmente per esempio qui c'è che c'è ancora abbondanza in vista l'abbiamo vista c'è freddezza con i cubetti di con i cubetti di ghiaccio insomma qui posso andare avanti tre giorni qualcuno noterà il tuo valore pensieri e sogni d'amore cioè qui ce ne sono c'è massima intesa sentimentale e fisica andiamo devi lasciare andare qui c'è la scena che si è conclusa no uno pensa a tutto il movimento che c'è stato fino a questo momento la vita che scorreva su questa spiaggia meravigliosa e qui fanno vedere fine devi lasciare andare il discorso è finito e concluso devi lasciare andare andare avanti alla ricerca di acque più tranquille le due facce della stessa medaglia tutto si aggiusterà quindi qui la carta ti promette no che tornerai alla sua tranquillità la tua serenità qualcuno ti sbarra la strada quindi qui c'è la gamba è simpatica questa immagine no vedete sembra proprio chiude il passo all'altra gamba no gli si farà davanti come dire qui non vai oltre strada strada chiusa qui ci sono io e poi insomma molte le abbiamo già belle che viste nei miei nei miei video quindi non non mi dilungo troppo le avete già viste quindi questo è il mazzo oracoli volume 2 che è bellissimo proprio anche perché io quando faccio le carte le faccio per me cioè non le creo pensando di doverle vendere doverle dare le faccio per me se quando è mi piacciono mi piacciono dico sì allora le pubblico e le offrono nel senso le metto in vendita allora questi sono gli oracoli volume 2 io vi lascio il link sotto oppure all'inizio di questo video vi ho messo il link per mandarvi al video in cui presento anche sia gli oracoli volume 1 che come ho detto poi benissimo guarda poi benissimo mischiare insieme mischiare insieme e farne un unico mazzo naturalmente va bene perché sono perfettamente identiche quindi vatti a vedere questo video in cui te le mostro oracoli volume 1 e tutti gli altri miei mazzi di carte i tarocchi i tarocchi chi mi segue già li conosce i tarocchi poi ho fatto i messaggi di lui e lei ok che sono anche questi meravigliosi li trovate nello stesso video eh ho fatto un video unico in cui ve li mostro e poi i due mazzi stesso discorso li ho fatti identici e li puoi prendere entrambi e creare un mazzo unico più completo parole d'amore volume 1 e volume 2 il volume 1 a questo interno queste immagini qui con questo cuore il volume 2 invece a questa immaginetta queste sporche io le uso da mesi e mesi volume 1 e volume 2 anche queste stesso discorso le puoi mettere insieme e creare un unico mazzo come io faccio molte volte nel privato perché li ho fatti anche questi della stessa identica identica misura proprio per poterli mettere insieme ecco questi cinque mazzi tarocchi oracoli volume 1 le due parole d'amore i messaggi di lui e lei li presento in un unico video di cui ti lascio il link giù nella descrizione di questo video va bene comunque sia per qualsiasi cosa mi potete scrivere una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com per qualsiasi informazione e bla 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 e ancora grazie per l'attenzione un bacione e al prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vi no ciao Grazie a tutti.